Poche ore fa in rete, su una pagina Facebook, sono state pubblicate queste immagini. Come vedete, in alto a destra il video è accompagnato da un titolo, Thailandia salvataggio dei giovani calciatori. Fioccano dunque i commenti della gente, c'è chi elogia i soccorritori, chi spera in un epilogo felice. Peccato che il video in questione, che in 5 ore ha ottenuto oltre 100.000 visualizzazioni, non c'entri nulla con la vicenda dei 12 baby giocatori, intrappolati in una grotta assieme al loro allenatore. Si tratta infatti di un video risalente alla 2010, si riferisce a un'esercitazione che si è svolta in Francia come facilmente intuibile, sentendo parlare i sommozzatori. In caso di cronaca di cui tutti parlano, come quello thailandese, il rischio di fake news come queste, le cosiddette bufale, è altissimo. Dunque per garantire la riuscita delle operazioni di salvataggio, per non diffondere notizie false e allarmanti per i familiari e per tutelare gli stessi ragazzi, le autorità locali, in un paese dove tra l'altro vige una dittatura militare, hanno coinvolto i giornalisti lo stretto necessario, solo per le comunicazioni importanti, impedendo loro di avvicinarsi alla grotta. Tempi lontani, quelli di Vermicino, come testimoniano le immagini della folla, accalcata attorno al pozzo dove precipitò e morì Alfredino. Ma delle immagini significative, in grado di raccontare gli sforzi compiuti da tutti, ci sono anche nella storia che arriva dalla Thailandia, come la foto pubblicata sui social dai sommozzatori thailandesi e internazionali, che insieme stanno cercando di salvare vite. Riportiamo a casa i cinghialotti il messaggio sotto questo scatto. C'è poi la lettera di scuse che l'allenatore dei 12 ragazzi ha scritto ai genitori dei piccoli calciatori, chiedendo loro scusa per aver trascinato i figli in questo guaio. Per giorni ha rinunciato al cibo per darlo ai bambini, un gesto di generosità che non lo rende sicuramente un eroe, perché non avrebbe dovuto portare in quel posto gli allievi, ignorando il divieto d'ingresso nella stagione delle piogge. Ma si tratta pur sempre di un errore compiuto da un giovane uomo, con tutte le sue fragilità, un errore che le mamme e i papà dei 12 ragazzi hanno già perdonato.